Riprende il salottino di stile artigiano, un salottino realizzato con gli oggetti di eccellenza della tradizione di artigiani in Liguria, dal composizione floreale, all'ardesia, alle sedie chiavarine dove siamo seduti. Abbiamo qui con noi l'assessore all'istruzione, formazione e bilancio Sergio Rossetti della regione Liguria. Chiedo a lui il valore di un'iniziativa come questa e il rapporto tra il mondo della scuola, della formazione professionale e dell'impresa. Il valore è straordinario perché mette in evidenza un mondo artigiano Ligure vivo che combatte in un momento di crisi ma rappresenta un momento economico importante del territorio. Un momento straordinariamente interessante, direi profetico per la scuola e il sistema formativo regionale perché sempre di più bisogna prendere consapevolezza che nel progetto di vita delle persone partendo dai ragazzi la scuola, la conoscenza e quindi la formazione continua un domani è tutt'uno con il mercato, con le imprese e col mondo del lavoro. Noi abbiamo la necessità che i nostri ragazzi oltre ad apprendere e quindi a sviluppare conoscenza nel momento formativo possano esercitare da subito le loro competenze, la capacità di mettere in campo ciò che si sa per risolvere i problemi e questo non può avvenire a scuola, questo deve avvenire come in tutti i paesi più avanzati nel mondo del lavoro. La collaborazione quindi tra oggi la duchessa di Galliera questa mattina e le imprese, gli artigiani, le aziende è un sviluppo inevitabile, necessario e urgente per tutto il nostro sistema. Mi pare che le sfilate, i risultati concreti, le testimonianze degli alleve e degli imprenditori ci dicono che quando il sistema riesce a mettere a regime questa integrazione vincono tutti, vince la scuola perché si qualifica, vincono i ragazzi perché si sperimentano nel fare e anche le imprese. La produttività del nostro sistema può crescere anche attraverso la maggiore qualità dei ragazzi che uscendo dai sistemi di istruzione e formazione vanno poi in azienda. Il ritornello, vengono persone ma non sanno lavorare, è un ritornello di sofferenza per tutte le aziende e può essere modificato solo attraverso una intensa integrazione tra mercato del lavoro e momento formativo e scolastico. Un'ultima domanda, può questa esperienza essere poi traslata nell'ambito della programmazione regionale? Deve essere traslata. Noi abbiamo iniziato con quattro istituti tecnici superiori, ITS dentro cui ci sono università, le aziende, la provincia, gli enti di formazione, il professionale e le scuole. E l'ITS fa riferimento all'alta formazione che è parallela a quella dell'università in diversi ambiti di forza del mercato e dell'economia regionale. L'energia, la meccanica navale, tutta l'economia del mare e l'information technology. Oggi finalmente il Ministero ha regolamentato il polo tecnico professionale, vere e proprie reti tra istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale e aziende, dove si chiede alle aziende di aiutare le scuole sia ospitando gli allievi sia anche interagendo e mettendosi in gioco nel momento formativo. La Liguria oggi ha la necessità e l'opportunità di mettere in campo questi poli che rappresentano nell'ordinamento di istruzione e formazione l'aspetto istituzionale di questa opportunità che il sistema locale veda a scuola, formazione e impresa come soggetti che parlando tra di loro in rete consentono di incrementare la competenza e la conoscenza dei ragazzi e quindi la capacità poi di stare su un mercato competitivo da parte delle imprese con maestranze più preparate. Bene, ringrazio l'assessore Rossetti non solo per l'intervento di oggi ma anche per l'impegno e la disponibilità durante la sua attività istituzionale di assessore in regione. Ci vediamo con la prossima intervista.